Avete mai sognato di giocare le mitiche carriere di Sensible World of Soccer con i vostri amici? Ora potete! Grazie agli sforzi del team di Sensibolita.tk, da anni punto di riferimento internettiano per gli appassionati nostrani del Sensible, è ora infatti possibile rivivere l'esperienza videoludica delle leggendarie carriere di Sensible World of Soccer in chiave multiplayer online, grazie ad internet, ai moderni browser e all'emulatore Amiga per PC. Create la vostra società, scegliendone a piacimento nome, stemma, divise, allenatore e stadio. Allestite nella rosa attraverso un calciomercato di stampo fantacalcistico, comprendente contratti, prestiti ed asse in tempo reale per accaparrarsi i giocatori, attingendo da un database che comprende oltre 5.000 dettagliatissimi calciatori, provenienti dai campionati più importanti del mondo ed aggiornati alla stagione 2010-2011. Sempre tenendo d'occhio però il bilancio societario, con tanto di incassi, perdite, premi per le vittorie e stipendi da pagare, via discorrendo, per non rischiare di finire in bancarotta. Impostate modulo e numeri di maglia e fate rivivere i vostri idoli di infanzia in versione calciatorino pixelato, grazie ad un apposito editor. Il tutto gestito via browser, grazie a una serie di paginette web molto intuitive e semplici da utilizzare, progettate ispirandosi ai menu del mitico Sensible Soccer, e che il sistema provvederà ad aggiornare automaticamente ed in tempo reale, con risultati, classifiche e statistiche di ogni tipo, marcatori, presenze, cartellini e così via. E poi si scende in campo. Lo staff provvederà ad inserire le squadre così create nel database del gioco, per la cronaca Sensible World of Soccer 96-97, versione Amiga, dopodiché partirà la stagione con campionati dalla A alla C2, promozioni e retrocessioni, play-off, play-out, non manca davvero nulla, e coppe per tutti i gusti, Elite Federation Supercoppa, a cui partecipano giocatori from back in the days, provenienti da tutta Italia, isole comprese, che si sfideranno online grazie al pacchetto emulatore più netplay, scaricabile gratuitamente presso il nostro sito. Insomma, c'è tutto ciò che l'appassionato ThisWars ha sempre desiderato ed è tutto gratis. Se l'idea vi intriga, fate un salto su www.sensibleta.tk per saperne di più, iscrivervi o semplicemente per fare due tiri con i migliori giocatori italiani, online ovviamente. Come faceva la canzone? I'm a goldscoring superstar hero You're a goldscoring superstar hero You're a goldscoring superstar hero I've got your name on the black of my shirt You're a goldscoring superstar hero